Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Desideriamo richiamare la vostra attenzione sulle procedure e dotazioni di sicurezza di questo aereo. Il bagaglio a mano deve essere sistemato negli alloggiamenti sopra di voi o sotto la poltrona davanti a voi. Allacciate la cintura di sicurezza e regolatela. Per slacciarla, sollevate l'apposita parte della fibbia. Vi suggeriamo di tenere la cintura sempre allacciata quando siete seduti. Chiudete il tavolino. Posizionate lo schienale della poltrona verticalmente prima del decollo e dell'atterraggio. In caso di depressurizzazione, le maschere per l'ossigeno si renderanno automaticamente disponibili. Grazie. Grazie a tutti.